Un imbianchino è precipitato mentre stava lavorando alla facciata di un'abitazione, compiendo un volo di circa 6 metri. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di San Giorgio Canavese, i carabinieri di Aglie e le di soccorso del 118. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale CTO di Torino.